la mettiamo qua dentro esatto forse su anche un pezzo di fil di ferro dai che non non puoi fare un cazzo secondo me è ancora meglio lì sempre se stiamo qua lo tagliamo via quello sarebbe meglio perché così l'acqua rimane di là c'è idea forse viene via forse viene via se viene via questo siamo a posto cazzo se viene via questo la mettiamo di qua piuttosto che lì in mezzo che sforre giù sempre l'acqua questo viene via vedi comincia a cedere e basta si ma viene via proprio da sotto guarda che bello il cannone lancia razzi a posto anche lui si ma pesa le pietre sono volato sono i bagli eh buongiorno mi dice che eh che la uretto eh ma dove ti metti c'è già un tassello qua ma come cazzo fai lavorare ma no lavoriamo quando non c'è acqua mettiamola a finire che la mettiamo dentro mettiamola qua la mettiamo la mettiamo lì no tieni questa e così ci vedi mettila dentro o mezzo la pianta lì non c'è più no va a scazzerlo poi è quello qui non c'è più però qua in fora qua in fuori c'era questa è guarda guarda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pensavo che c'era meno acqua. Anch'io. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Paolo... Portiamoci. Oh, Tony Baldwin è uscito da qui. No, da qui. Oh, io preferisco solo ieri. Oh, c'è la giocina là. Oh, amor. Oh, c'è la giocina. 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 Oh, fuori. Vieni giù fino al buco. Fuori il buco. e avanti saletta appoggiata